Senti, un attimo però, per favore, attenzione, fatemi capire una cosa e spieghiamola anche alle persone in sala Voi non siete Tom Cruise e la moglie? Come mai non sono venuti? Sono venuti! Ah, ecco, quindi siete dei sostituti, ma... Sì, 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 sì Sì, 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 sì Un momento però, perché io ho anche pagato, ci ho parlato con l'agenzia di queste persone, abbiamo pagato Quindi per non venire qui avete incassato voi. Ma chi è che lo dice che questi sono malati? Ma sono malati. Ma pure voi però non è che insomma tanto bene. Giovanotto.